Come prevenire le rughe. Sono Filippo Ongaro, ideatore del Metodo Ongaro, un approccio scientifico alla crescita personale, all'aumento della prestazione e ti invito a iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, molto male, e a cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornato. Questi sono i video che mi interessano perché il titolo come prevenire le rughe ti fa pensare che ti parlerò di cremine, di massaggi e invece ti parlerò di cose un pochino diverse. Se mi conosci probabilmente te lo aspetti, se non mi conosci spero di sorprenderti positivamente dandoti un'altra prospettiva su un problema che in qualche modo angoscia una gran parte della popolazione femminile, non solo perché adesso ad angosciarsi sono anche i maschietti con le rughe. Allora il tempo che passa è una delle cose che nella nostra società crea più ansia. Noi siamo abbastanza condizionati dalla idea di invecchiamento che coincide con una perdita di capacità funzionale, di salute, ma soprattutto di ruolo nella nostra società e quindi ci terrorizza il tempo che passa. Ci fa paura il decadimento psicofisico, ci fa paura l'apparire più vecchi, perché siamo molto condizionati dalla soddisfazione del bisogno di significato per cui gli altri devono attribuirci un ruolo di giovani ai tanti, stiamo sempre bene, non invecchiamo mai, niente di male nel voler stare in forma, non è che voglio dire questo, però questa ansia per il tempo che passa non ci fa molto bene e non coincide peraltro con i dati molto interessanti di tante ricerche che mostrano che la felicità non è affatto più presente nell'età giovanile. È un mito da sfatare questo, non è affatto vero e se ci pensi è anche ovvio, nell'età giovanile si è ancora più pieni di ansia e di dubbi su se stessi, sugli altri, su che lavoro farò, su dove andrò a finire, su sarò all'altezza. In realtà molta ricerca indica che se la persona riesce a sviluppare e a coltivare un rapporto corretto con il tempo che passa, con il proprio corpo e con la propria mente, la felicità tende ad aumentare nel corso della vita, perché siccome la felicità in un essere complesso come l'essere umano non è solo data dal fatto che riesce a saltare come uno scimpanzè, con tutto il rispetto per gli animali, ma è una roba più complessa, no, la nostra felicità è molto legata con l'esperienza di vita, con come interpretiamo le cose e quindi è qualcosa che tende in realtà ad aumentare. Questo sorprende la maggior parte delle persone quando dico questo, ma non è un'invenzione mia. Ci sono molti dati che confermono questo e interi libri sono stati scritti da ricercatori su questa cosa. Quindi bisogna prima di tutto sfatare il mito che da giovani si è felici man mano che passa il tempo si diventa più tristi. Non è vero, è una scelta se questo accade, ma uno dei freni più grossi proprio al fatto che con il passare del tempo si tenda a crescere e quindi a stare meglio, è la non accettazione del fenomeno stesso. Cioè se tu mentalmente ed emotivamente non accetti che il tempo passa, che l'organismo tende a decadere e che prima o poi, mi dispiace dirtelo se non ti era ancora chiaro, ma tutti moriamo, se non accetti questo, sarai sempre costretto a lavorare con una forza immensa contro una corrente che ti batterà sempre, perché è la natura delle cose, è la vita, è fatto così. E attenzione perché accettazione non vuol dire rassegnazione. Accettazione è il prerequisito per agire. Accetto che c'è il problema, dunque mi metto all'opera per cercare di fare del mio meglio. Rassegnazione è c'è un problema così grosso che non posso farci niente, quindi mi lascio trascinare via. Sono due cose completamente diverse, ma la non accettazione è il prerequisito per una serie di azioni sbagliate e fallimentari. E è chiaro che tutti noi preferiamo apparire giovanili, è chiaro, è ovvio, ti fa più piacere essere più bello, no? Ma il tema vero è la pelle è una manifestazione esterna di ciò che accade internamente. Quindi ci sono tanti modi per intervenire su questo, è tutto parte della filosofia di vita che vogliamo accettare. Cioè tendiamo a tamponare un sintomo che è in qualche modo inevitabile, cioè l'invecchiamento, o tendiamo a lavorare invece più in profondità per rendere questo invecchiamento, questo decadimento, questo passaggio del tempo il più dolce e piacevole possibile. Quindi da un lato cerco di togliere, di eliminare, di evitare. Dall'altro cerco di giocare con il ritmo della vita, ma mantenendo diciamo il controllo della situazione. La pelle, tanto per tornare un attimo al titolo, perché sennò appunto poi sicuramente qualcuno mi dice ma è di rughe però non hai parlato. Per tornare un attimo alla pelle, la pelle è espressione di quello che accade all'interno del nostro organismo. Ci sono dei processi biochimici che causano l'invecchiamento della pelle, l'ossidazione per esempio, cioè il danno creato dai radicali liberi, la glicazione, cioè il legame dello zucchero alle proteine nell'organismo che ne altera la struttura e la funzione e proprio due proteine che vengono distrutte o degradate in maniera molto significativa sono proprio l'elastina e il collagene ed è una delle ragioni per cui la nostra pelle invecchia. Cosa fare? Si può piangere, si può correre a mille rimedi esterni, fare centomila interventi chirurgici, oppure per esempio si può fare ginnastica per mantenere un po' più attive quelle proteine. Ginnastica facciale sembra una scemenza ma in realtà è una ginnastica. Noi abbiamo un sacco di muscoli sulla faccia. Si può appunto continuare a piangere oppure dire cura la mia nutrizione, abbasso il danno che creo attraverso il mio metabolismo, assumo degli antiossidanti, evito di arricchire la mia alimentazione con zucchero che non fa altro che amplificare il meccanismo della glicazione, prendo delle proteine in polvere a ridosso dei miei allenamenti in modo tale da dare più supporto alla muscolatura dell'organismo. Ci sono mille modi e un altro modo, ed è quello che voglio suggerirti adesso, è anche fare il corso che trovi qui che potenzia la tua salute e così queste strategie le impari molto bene e le inizi ad applicare subito. Ma il modo però più profondo per non tanto prevenire le rughe, ma prevenire che le rughe ti infastidiscano, è lavorare sul tuo stato psico emotivo. Si può essere belli a qualsiasi età se si è felici di se stessi, si può essere belli e forti a qualsiasi età se non si fa finta di nascondere l'età. E credo che questo sia veramente un limite della nostra società, averci fatto credere che il passaggio del tempo debba corrispondere con stare peggio. Credimi, documentati, perché ci sono tanti studi che parlano di questo, si può essere molto più felici con il tempo che passa se si è in grado di assorbire le lezioni che il tempo ci regala, le esperienze, la maturità, una visione diversa della vita e soprattutto meno paura. Ma è impossibile avere meno paura della vita se si ha tanta paura delle rughe.